Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi è un video un po' particolare. Innanzitutto non so dove guardare perché ho la fotocamera nuova, quindi non so bene dove guardare. Comunque, il video di oggi è un video che vi avevo già accennato un paio di settimane fa quando ho registrato il mio tour della casa e si tratta di farvi vedere tutti i souvenir che ho collezionato con gli anni e si trovano là. Questi sono tutti i miei souvenir, ne mancano ancora qualcuno di qualche altro mio viaggio all'estero ma sono a Milano e non so se rimarranno lì o li porterò, deciderò col tempo. E poi manca una tazza, grazie ambulanza, manca una tazza che mi ha portato il mio migliore amico da Praga e quella ce l'ho a Milano, tutte le volte mi dico che la voglio portare qua ma mi dimentico. Nick ricordami che devo portarla. Comunque, ad ogni modo, qua ci sono tutti i miei souvenir, non mi li ricordo in ordine cronologico, mi dispiace, perché alcuni viaggi li ho fatti in concomitanza di altri, quindi è difficile ricordarsi nel preciso proprio l'anno, la data, eccetera. Iniziamo con Rimini. Io sono stata a Rimini per due anni di fila al mare a luglio e non sono grande amante delle tazze, nel senso che non mi piacciono le tazze come souvenir, però questa mi è piaciuta fin da subito e mi sembrava riassume perfettamente i due anni che sono andata al mare a Rimini. Mentre tutti decidono di passare sotto casa mia, mentre io faccio i video. Vabbè. Poi, il secondo anno in cui sono stata al mare a Rimini, sono stata anche a Ravenna e ho preso questa tazza bellissima, che rappresenta un mosaico praticamente, con questa fontana e poi c'è scritto Ravenna. È una specie di tazzina, pozzozza, però vabbè. Comunque sono tutti da collezione, come potete leggere, non si possono usare, quindi è normale che siano un pozzozzi. Dovrei pulirli, però vabbè. Dopodiché, credo di essere stata l'azzise, questa barchetta mi ha colpito fin da subito, sinceramente mi piace veramente un sacco e poi di qua c'è scritto anche l'ago di Garda, però mi piace più dalla parte di l'azzise. Dunque, mi stavo dimenticando, a Rimini sono stata a luglio del 2017, luglio del 2018, e Ravenna 2018. Invece l'azzise ci sono stata varie volte, sempre agosto 2017 e agosto 2018. Dopodiché, credo arrivi Padova. Padova ci sono stata a capodanno del 2017, credo, 17-18. Questa è la basilica principale di Padova. Non potete leggere, c'è anche scritto il nome della basilica. Nel caso mi venisse l'alzheimer fra 20 anni, e io non lo ricordassi più. Dopodiché, dopo di Padova, sono stata, credo, a Venezia. Penso di sì. Mi sono ricordata che c'è stato un altro viaggio a Parma, ma a Parma non ho trovato souvenir. E credo che proprio sia stato questo di Venezia. Mi è piaciuto subito sta... come la vogliamo chiamare? Perché c'è il ponte di Rialto, con tutte le gondole. Il leone, in piazza San Marco. L'abbigliamento tipico del gondoliere. Le maschere, che come potrete vedere, c'è anche quella maschera, che ho preso sempre a Venezia. Non so se ve l'ho fatta mai vedere, ma a me piace da matti. E ha tutte le punte della maschera che si muovono. E puoi metterle a tuo piacere, praticamente. E a me veramente fa impazzire sta maschera. Quindi, tornando a noi, la maschera. Questo è il ponte dei sospiri. E poi c'è il campanile famoso. Dopodiché... Credo sia arrivata Verona. Però Verona era insieme a Padova, nel senso che sono stata nello stesso periodo. Mi stavo dimenticando. E questa è l'arena. Bellissima. Purtroppo l'ho vista solo da fuori. Mi piacerebbe un giorno tornare a vedere Verona. Perché Verona mi è veramente piaciuta un sacco. Mi piacerebbe entrare dentro l'arena. E... Fare un altro giro della città. Quando è meno caotica. Dato che sono stata nel periodo di Capodanno. Quindi era un po' caotica. Dopo estate 2019 sono stata ad Alba Adriatica, in Abruzzo. E non ho trovato souvenir che mi piacessero. E alla fine ho preso questa tazzina. Che tra le altre cose il verde non mi piace neanche come colore. Però vabbè. Dettagli. E ha raffregurato un po' il lungomare di Alba Adriatica. E bellina così. Poi. Post Alba Adriatica. Prima di tornare a casa ci siamo fermati a Urbino. E... Questa è simile a Venezia. Credo di aver preso... No. Prima c'era Venezia, poi Urbino. Sì, avevo avuto dei momenti di... Alzheimer proprio prepotente. Non mi ricordavo bene. E praticamente qua ci sono tutti... I monumenti con il nome. Mausole o dei duchi. Che è questo. A girare c'è la chiesa di San Francesco. Sì. Poi c'è il palazzo ducale. Che è tutto questo complesso. E poi... Il monumento a Raffaello. Che è questo. E poi gira tutto intorno. Devo dire che mi piace veramente, veramente, veramente un sacco questa... Bellina. Poi... Facendo un po' di pulizia in giro per la casa... Ho trovato questa cartolina. Presa a Urbino. Ma... Non è... Timbrata, né nulla, niente di niente proprio. Non mi ricordo se l'ho presa per tenerla in casa o per regalarla ai miei. Boh, fatto sta che... Me la sono ritrovata qua e... Rimane. Anche perché è inutile portare una cartolina ai miei dopo sei mesi, se non di più, che è qua. Quindi rimarrà lì, insieme a tutte le altre. E infine c'è il pezzo forte. Il capodanno che è appena passato sono stata a Roma. Non ero mai stata a Roma. Roma mi è veramente, veramente piaciuta un sacco. Posso dire con fermezza che tornerò volentieri a Roma. Perché Roma veramente mi è piaciuto, veramente un sacco. Questo è il Colosseo. Lo faccio vedere un po' a 360 gradi. E poi, uno degli ultimi giorni in cui era a Roma, sono stata anche al Vaticano. Questa, nella precisione, è la piazza di San Pietro. E se non vi ricordate... Wow. Ma che bella panoramica che vi sto facendo, raga. E... Se volete vedere tutti i miei viaggi, vi allego la playlist dei vlog con tutti i video. Di Roma, Verona, Padova, Venezia, Urbino, eccetera. E nulla, questo video finisce qua. Spero che vi siano piaciuti i miei souvenir. In molti me l'avevano chiesto, quindi... Eccovi accontentati. E nulla, spero e conto di fare altri viaggi presto. Ne ho già un paio in programma, spero di riuscirci. E a me piace veramente un sacco viaggiare. Non vedo l'ora di riprendere a viaggiare. Nulla. Questo video appunto finisce qua. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate la campanella per sapere ogni qualvolta io pubblico qualcosa o ci sono degli aggiornamenti. E niente, noi ci vediamo mercoledì prossimo, ore 15, con un prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!